Bentornato negli studi di Temporadio, lo diamo ora invece al sindaco di Castelgofredo, di nuovo con noi Alfredo Posenato, bentornato sindaco. Grazie, buongiorno a tutti quanti. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, ricordo che la linea telefonica è aperta, chiunque vuole intervenire anche in diretta può farlo, 037663 1709, poi il solito numero, sms, messaggi whatsapp, il 338 17 19 105. Allora, dunque cominciamo con l'anticipare che c'è domani, che sarà l'antivigilia. C'è lo Shopping Day, manifestazione organizzata dall'associazione dei commercianti di Castelgofredo, la quale aderiscono poi un gran numero di associazioni di volontariato, che si sforzano con una serie di iniziative articolate di offrire un'offerta quanto mai variegata a chi avrà in animo di venireci a trovare. Le previsioni del tempo sono buone, naturalmente fa freddo, ma questa non è una sorpresa per dicembre, però il fatto che non ci siano precipitazioni previste naturalmente ci induce a sperare che ci sia un afflusso robusto, come peraltro tutti gli anni c'è, e quindi conto che possa anche quest'anno essere un'edizione particolarmente affollata. Va detto, questo lo dico così, non scevro da qualche vena polemica, che da quest'anno sono in atto nuove disposizioni volute dal Ministero dell'Interno a doverosa tutela nei confronti dei cittadini, questi sono se vogliamo un po' gli effetti anche di una serie di attività terroristiche che sono state messe in atto da quei soggetti che non sono simpatici quasi a nessuno, e quindi ci hanno costretto ad una serie di interventi nel tentativo di rendere l'evento il più sicuro possibile. Va detto che per quanto noi ci si attenda una partecipazione robusta, non credo sarà una folla oceanica, quindi non ci saranno, penso, milioni di persone, ma forse qualche migliaio. Tuttavia è doveroso naturalmente ottemperare quelle che sono le norme volute dal Ministro degli Interni a tutela di tutta la cittadinanza che parteciperà. Sono un motivo di pensare che anche domani sera ci sarà una presenza davvero importante. Poi sono fondamentalmente i blocchi, tra l'altro c'è proprio di oggi la notizia che tra i feriti di Melbourne c'è anche un italiano, tra l'altro. Sì, francamente è un dettaglio che ignoravo, però al di là di tutto confesso che per quanto naturalmente quando le persone ci sono vicine, una persona viva con maggiore intensità la drammaticità di questi eventi, però le persone sono persone al di là di quella che è la cittadinanza che le contraddistingue, e quindi per me i feriti di Melbourne sono i feriti di Melbourne, che siano italiani, che siano australiani, che siano tedeschi o che siano americani, poca differenza fa, pur sempre persone sono, quindi mi rincresce. Auguriamoci che fenomeni di questa natura da noi non ci siano, ma auguriamoci soprattutto che tendano a nessacene più in nessuna parte del mondo. Giustamente, sa già cosa appunto quello che ha detto, purtroppo è una cosa che si dice sempre quando è successo questo, non ci sono italiani o ci sono eccetera. Ma credo che i telegiornali spesso riportino questo dato, forse più per tranquillizzare gli ascoltatori, che non perché ci sia un'autentica volontà di identificazione, come dire, etnica, dei soggetti coinvolti. Perlomeno voglio sperare che sia così, l'augurio naturalmente che eventi di questa natura non ce ne siano, ce ne siano sempre di meno e soprattutto che non abbiano conseguenze irrimediabili. Parlando di amministrazione di Castel Goffredo, sindaco, Tari? Sì, noi abbiamo avuto proprio questa settimana un consiglio comunale che è stato in larga parte orientato proprio alla discussione della Tari, la Tari è il tributo che riguarda la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Su questa noi stiamo intervenendo in maniera abbastanza significativa quest'anno perché dal 2018, in particolare dal primo di marzo del 2018, abbiamo licenziato questo provvedimento che prevede che diventi la nostra tarifazione puntuale. Cosa significa? Significa che oggi la Tari, quindi il tributo legato alla gestione dei rifiuti urbani, si articola su due parametri. Uno è la dimensione, la superficie della casa abitata, mi riferisco unicamente alla parte legata alle utenze domestiche e l'altro è il numero degli abitanti, quindi dei residenti in quella casa. Abbiamo inserito un terzo parametro che sarà il numero di svuotamenti del contenitore dei rifiuti urbani indifferenziati della cosiddetta frazione secca, bidone sul quale fin dall'inizio, quindi fin dal maggio del 2015 quando abbiamo iniziato la raccolta porta a porta abbiamo previsto l'inserimento di un chip, di un sensore che sia in grado di rilevare il numero degli svuotamenti. Questo provvedimento che cosa determina? Determina che chi svuota di meno, quindi senza eccedere pertanto la soglia minima di svuotamenti previsti pagherà verosimilmente qualcosa di meno rispetto a quello che sta pagando oggi chi svuota di più, quindi eccedendo il numero di svuotamenti minimi, pagherà per ogni svuotamento in più una cifra supplementare. Questo vuole indurre le persone a generare meno rifiuto indifferenziato quindi creare le condizioni, creare una qualche forma di stimolo, di incentivo affinché le persone siano maggiormente sollecitate a differenziare bene. Questo ci auguriamo che possa permettere di fare ulteriori progressi sul fronte della differenziazione, va detto tuttavia che Castelgofredo è passata da un circa 47% precedente all'introduzione del sistema di raccolta porta a porta a circa l'85% attuale, quindi con un progresso che definirei assolutamente straordinario, sappiamo tuttavia che è possibile fare ulteriori piccoli miglioramenti ma soprattutto questo vorremmo che inducesse la popolazione ad avere un atteggiamento più consapevole nei confronti dei rifiuti, della loro generazione e del loro trattamento. Il rifiuto troppo spesso viene vissuto dai cittadini come qualcosa di ammorbante, di assolutamente pestilenziale, di cui liberarsi più in fretta possibile, mentre se viene concepito, gestito, generato con criteri diversi, con una diversa consapevolezza può addirittura diventare una risorsa. Abbiamo molti esempi, chi naturalmente ha sensibilità al riguardo sa bene come potersi documentare, come poter dare un contributo con la nostra comunità per migliorare l'attuale condizione, poi ahimè ci sono anche tante persone che sono pregiudizialmente contrarie o che comunque non sono minimamente disponibili a perdere 10 minuti sull'argomento e nei confronti di questi io naturalmente non posso costringere nessuno. Quindi sarà data ancora facoltà a chi non ha intenzione di differenziare, di continuare a riempire i vidoni dell'indifferenziata, a queste persone sarà tuttavia chiesto un contributo maggiore proprio per continuare a gestire le cose con un protocollo, con dei criteri che certamente noi non ci sentiamo di condividere. Del resto appunto si è passati, adesso non facciamo stati discorsi generali eccetera eccetera però per esempio ieri è venuto fuori un dato sulle microplastiche dei laghi, finalmente e possiamo dire che neanche quelli lombardi se la pagano granché bene. Credo in tutta franchezza che il fenomeno dell'inquinamento, dell'ammaloramento dell'ambiente sia un fenomeno che è sempre più difficilmente gestibile in un ambito separato, circoscritto, è un fenomeno di natura generale e proprio perché è generale dovrebbe essere gestito con particolare cautela, con particolare attenzione da tutti. Non dimentichiamoci che l'ambiente ecos, quindi casa, è la casa di tutti, quindi il mondo è la casa di tutti. Allora quando io entro nella casa di qualcuno mi sento in dovere di rispettare le norme di ospitalità che questo qualcuno mi propone. Penso che sarebbe un atteggiamento corretto, consapevole quello, già che questa è la casa di tutti e non di qualcuno, di avere l'atteggiamento di massimo rispetto nei confronti anche della libertà degli altri e poi non va dimenticato che questo è un contenitore provvisorio delle nostre esistenze. Non dimentichiamoci che questo è il contenitore che dovrà ospitare anche le esistenze di chi viene dopo di noi, dei nostri figli, dei nostri nipoti e anche di coloro che con noi non sono in nessun modo imparentati. Quindi abbiamo, io credo, il dovere morale di cercare di preservarlo. Poi si sprecano naturalmente oramai i commenti a questo riguardo, ma per chi ha sensibilità religiosa e per chi vede nel Papa una guida spirituale o filosofica mi pare che anche la sua ultima enciclica sia un chiaro manifesto all'esigenza di continuare ad avere attenzione nei confronti di questa nostra casa comune. Assolutamente. Allora, vorrei chiedere una cosa. Adesso abbiamo citato un po' per le persone andate così, appunto, Tari, differenziazione, diverse cose. Possiamo vedere com'è cambiata Costai Lufreddo durante la sua amministrazione, appunto, perché ci sono state diverse novità. Beh, sì, diciamo che noi abbiamo iniziato, abbiamo esordito l'amministrazione evidenziando come avremmo voluto fare le cose non tanto lasciando un'opera, una grande opera di imperitura memoria, ma quanto piuttosto cercando di sforzarci a manutenere ciò che c'era di esistente, tralasciando o mettendo comunque in secondo piano la possibilità di realizzare qualcosa di importante. Tant'è che anche l'unica opera che avremmo avuto in animo di poter realizzare non era la costruzione di qualcosa di nuovo, ma era la ristrutturazione, il recupero del nostro cinema-teatro, attività alla quale purtroppo non abbiamo potuto dedicare le risorse necessarie anche perché insomma abbiamo dovuto affrontare alcune altre emergenze impreviste, fra le quali quella del palazzetto, fra l'altro apro una parentesi, il palazzetto come chi sarà curioso di sapere è in questo momento un cantiere aperto, è stato pressoché sventrato per procedere prima che alla ricostruzione, a tutte le verifiche e gli ammodernamenti necessari anche per renderlo sotto un profilo sismico compatibile con le nuove normative. Chiusa parentesi. Quindi ci siamo sforzati soprattutto di operare adottando una serie di criteri innanzitutto di rigore sui conti, di risparmi laddove fosse stato possibile realizzarne alcuni e credo che al di là di tutto alcune attività abbiano prodotto dei risultati apprezzabili. Abbiamo fatto tutto bene? Certamente no. Abbiamo commesso sicuramente qualche errore, qualche errore per magari non adeguata totale, assoluta conoscenza delle cose, altri perché naturalmente facendo delle scelte ci si espone anche il rischio di sbagliare. Rimango tuttavia abbastanza convinto che una serie di cose siano state fatte, siano state fatte bene, in ottemperanza e in armonia con quello che era il nostro obiettivo e il nostro manifesto elettorale. Abbiamo parlato poc'anzi di rifiuti e questo mi sembra una cosa che merita di essere menzionata, passare dal 47% all'85% di raccolta differenziata credo sia un risultato che da solo si autoggiunge giustifica, autogiustifica l'investimento che è stato fatto, ma mi pare anche in questo senso credo sia utile questo passaggio proprio perché le persone tendono poi a dimenticare come erano le cose, quindi ci si abitua rapidamente alla novità, la presenza sul territorio dei cassonetti, delle isole dove i cassonetti erano quasi quotidianamente, questi cassonetti erano veramente in condizioni pietose, quindi erano dei ricettacoli con rifiuti abbandonati ai piedi dei cassonetti stessi con situazioni soprattutto nel periodo caldo estremamente sgradevoli, quindi con maleodoranti eccetera eccetera, l'eliminazione dei cassonetti quindi credo abbia dato un nuovo e maggior decoro all'intera cittadina, ha peraltro anche consentito di recuperare qualcosina in termini di viabilità e di parcheggi e più in generale mi pare abbia anche ridotto questa percezione di sporcizia magari concentrata, qualcuno ci dice che il paese è molto sporco, io naturalmente per quanto riguarda i rifiuti abbandonati sono perfettamente consapevole che c'è purtroppo qualche persona incivile che non smette di adottare queste pratiche odiose, naturalmente noi ci stiamo sforzando attraverso la polizia locale di individuare ogni volta che è possibile i trasgressori in questo senso che vengono puntualmente multati, certo di multe ce ne sono poche rispetto a quelle che sono il numero degli abbandoni ma è nostra precisa volontà insistere in questa direzione. Per quanto invece riguarda la sporcizia generale quindi quella sensazione di non pulizia determinata da cittadini che abbandonano il pezzo di carta, la bottiglietta vuota, la lattina o il mozzicone di sigaretta, certo questo è un fenomeno nel quale siamo consapevoli, non credo in tutta franchezza che ci sia stato un peggioramento, comunque un peggioramento significativo, però mi permetto di ricordare che non esiste pulizia al mondo che consenta di tenere pulito un paese 24 ore su 24, il modo migliore per tenerlo pulito è quello di non sporcarlo e quindi è un problema non tanto di pratica di pulizia quanto di educazione al non lordare i luoghi pubblici, ecco da questo punto di vista credo che molte delle attività propedeutiche a raggiungimento di determinati obiettivi debbano essere fatte in ambito scolastico perché proprio attraverso la sedimentazione di determinati insegnamenti, di determinate pratiche che si riesce a raggiungere risultati che nel lungo periodo possano essere veramente apprezzabili. Poi cosa vuole? Di cambiamenti evidentemente ne sono stati fatti molti, rivendico e di questo sono personalmente molto lieto e orgoglioso che nel corso di questa amministrazione sia stato possibile ripristinare una condizione di dialogo e quindi sono contento che con le minoranze sia possibile pur nel rispetto delle reciproche posizioni riuscire a dialogare e non di rado anche a far convergere i reciproci orientamenti verso provvedimenti che possano essere la sintesi un po' delle diverse sensibilità. A questo proposito anche su un tema tanto controverso quale quello dei migranti nel penultimo Consiglio Comunale siamo stati in grado di raggiungere appunto una sintesi che si è poi concretizzata in una lettera inviata al Ministro degli Interni che tratta proprio su quelle che sono le procedure e i protocolli di accoglienza sui quali naturalmente ribadisco abbiamo sensibilità differenti ma siamo stati in grado di esprimere un parere comune manifestando la nostra totale contrarietà rispetto all'attuale protocollo in essere e richiedendo a gran voce che questa pratica venga rivista e auspicabilmente corretta al fine di rendere l'intera procedura più snella, più rapida ma anche più rispettosa nei confronti dei nostri cittadini che in definitiva finanziano anche questi protocolli ma anche delle persone che vengono qua che non è giusto rimangere in una condizione di limbo per due anni, due anni e mezzo come talvolta accade. Quindi queste volevano solo essere alcuni degli aspetti e poi naturalmente sono molte altre le cose che sono cambiate e se in futuro mi sarà data l'occasione di poter toccare l'argomento sarò ben lieto di poter dare ulteriori dettagli. Le leggo alcuni messaggi Sindaco, va bene? Allora vediamo, scusi Sindaco dove prendono il calendario rifiuti chiede Ilaria? Dove si prende? Viene consegnato direttamente a casa, fra l'altro anche a questo proposito ci tengo a precisare che il calendario non viene inviato quest'anno dai soliti strumenti ma abbiamo utilizzato una delle molte società di associazione di Castelgofredo, nella specifica la consulta giovani che a fronte di un piccolo compenso dove anche qua siamo stati in grado di fare una piccola economia si preoccuperà di recapitare a tutte le famiglie il calendario, quindi proprio in questi giorni è in corso di consegna, quindi sono fiducioso che prima della fine dell'anno tutti i cittadini avranno ricevuto a casa propria il calendario. Allora vediamo, come mai c'è un segno nero di lutto in piazza? Questo è un tema controverso, penso che a qualcuno sia giunta notizia che Castelgofredo per volontà di qualche imprenditore locale ha recentemente entrato nel Guinness dei Primati realizzando il collant più lungo del mondo, è una calza lunga se ricordo bene 23 metri e per renderla visibile in tutta la sua entità è stata appesa alla torre civica. In realtà purtroppo per una serie di ragioni, per questioni di carattere proporzionale si fa fatica a capire che si tratta di un collant, ma quello è, e naturalmente il collant se vogliamo è il segno distintivo delle attività di Castelgofredo, voleva essere un segnale ma non è assolutamente un segnale luttuoso, poi che il risultato sia esteticamente non del tutto soddisfacente, ahimè vero, però mi sembra tuttavia che voglia richiamare l'attenzione su un argomento per noi di centrale importanza e mi pare che al di là di tutto anche questo messaggio sia testimonianza che abbia raggiunto l'obiettivo. 25 metri? 23 se ricordo bene. Il problema della Lega, dice un ascoltatore o ascoltatrice, sono gli immigrati, ma se poi si scopre che molti della Lega hanno dato in affitto alle cooperative le case, come la mettiamo appunto di domanda? Alle cooperative? Alle cooperative, dice, comunque va bene insomma. Ah sì ho capito, sia alle cooperative che si occupano diciamo poi dell'accoglienza ai migranti, ma come la mettiamo? Diciamo ognuno naturalmente in cuor suo farà i conti con la propria coscienza, io non me la sento di lanciare strali nei confronti di nessuno, parto dal presupposto che se esiste una norma questa va applicata, se un libero cittadino a prescindere da quale sia la sua appartenenza, la sua fede politica ritiene di mettere a disposizione sotto compenso un bene di sovietà nei confronti di una cooperativa ha il diritto di farlo, non è un'attività illegale, poi ripeto ognuno naturalmente in cuor suo farà i conti con la sua coscienza. Quando sarà pronto il palazzetto anche? Il palazzetto noi c'eravamo illusi che potesse essere pronto per la fine dell'anno, naturalmente questo è una chimera, non ho perso la speranza prima di terminare il mandato, di poter avere il piacere e l'onore di reinaugurare il palazzetto, non nego che in questo momento è una speranza, non è una certezza. Certo, e viva le trippe degli alpini, bravi Franca! Eh beh, certo, assolutamente, gli alpini sono una delle tante associazioni che si darà da fare per lo shopping day, quindi sono lieto che qualcuno se ne ricordi. Qua c'è un messaggio, forse lo capisce lei, dicevi sì ma che è prezzo per le frazioni? Non riesco a capire, no beh, se è per la Tari le frazioni vengono trattate esattamente come gli altri cittadini, quindi non ci sono modificazioni tarifare, quelle sono uguali per tutti, non so francamente a quale altro possa riferirsi, però... Allora, le unisco dei messaggi, Lara dice buongiorno a Posenato, grazie per quello che ha fatto e buon Natale, un altro dice a Posenato mi piacerebbe per Natale avere la candidatura di un sindaco in gamba come lei per il futuro e poi c'è anche un Posenato unica alternativa alle destre, dice anche, sono tre ascoltatori o ascoltatrici diversi. Io diciamo che sono stato considerato da alcuni come alternativa alle destre, io ho sempre manifestato la mia personale non appartenenza a nessuno degli schieramenti in gioco, però non voglio essere alternativo a nessuno, io voglio essere semmai il tentativo di, ho voluto essere il tentativo di portare avanti un modus amministrativo che forse non era del tutto condiviso, se poi ha funzionato o non ha funzionato, questo non aspetta a me deciderlo, nessuno è buon giudice di se stesso, diciamo che in cuor mio mi sento di aver raggiunto una buona sufficienza, però ripeto, dipenderà poi dagli altri decidere. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo e facciamo gli auguri al primo cittadino del Castelgo Freddo Alfredo Posenato, allora ci vediamo lo Shopping Day, visto c'era anche un messaggio. Mi auguro che ci sia una robusta presenza lo Shopping Day, sono sicuro guardando anche un po' quelli che sono i risultati storici, che sia una manifestazione che raccoglie grande consenso e naturalmente per me questa è un'occasione importante anche perché è l'ultimo anno del mio mandato, quindi ci tengo in modo particolare a fare i miei personali auguri a tutti i cittadini di Castelgo Freddo, ma in coerenza con quanto detto in apertura di trasmissione, i cittadini di Castelgo Freddo sono cittadini come lo sono quelli di Castiglione, di Asola o di Medule, quindi fare gli auguri a tutti i cittadini, a tutte le persone che meritano il nostro rispetto e credo sia doveroso da parte di un amministratore pubblico ribadire, noi abbiamo avuto il privilegio di essere stati eletti, credo che sia giusto che le persone vedano i pubblici amministratori come soggetti, riferimenti a loro disposizione e non viceversa, vedo che purtroppo non di rado qualche mio collega amministratore tende invece a sentirsi un po' sul piedistallo, ecco io mi sento un po' non il primo cittadino ma l'ultimo, nel senso quello che dovrebbe essere a disposizione di tutti, spero almeno questo che le persone, i miei concittadini lo abbiano colto e mi auguro lo abbiano apprezzato, quindi auguri davvero a tutti quanti, a cominciare da voi e per proseguire con tutti i cittadini all'ascolto. Grazie Sindaco, grazie. Grazie a voi.